Uno spazio tutto nuovo realizzato in un cortile interno e progettato con particolare attenzione alla creazione di spazi accoglienti e funzionali pensati per favorire la concentrazione ma anche il benessere degli studenti ed è collegato con l'aula magna nel contesto di un ripensamento degli spazi didattici ed attività sia di gruppo che individuale degli studenti. Allestita poi con materiali colori rilassanti offrendo un ambiente ideale per il relax e anche la meditazione per favorire lo scambio di idee succede a liceo Curiel di Padova. È veramente un'azione che abbiamo cominciato negli anni quella di recuperare degli spazi nella scuola per offrire agli studenti uno spazio bello intanto e poi uno spazio in cui possano fare delle attività insieme, socializzare, creare e anche riposarsi. Questo è uno spazio che abbiamo recuperato e che nella scuola prima era praticamente in disuso e che adesso è stato veramente allestito in modo che i ragazzi dall'aula studenti che è qui vicino possano uscire e possano anche qui trovarsi, fare attività insieme e socializzare. Si chiama anche aula della mindfulness, cioè uno spazio anche per rilassarsi, per stare insieme e per trovare dei momenti di aggregazione, oltre che di riposo e di studio individuale. La provincia ha svolto un ruolo significativo in questo progetto destinando una somma di 13 mila euro al progetto Scuola Innovazione 2021. Fondazione Cariparo ha affatto un sossegno fondamentale contribuendo con 80 mila euro. Anche la scuola ha contribuito con fondi propri per un importo di 7 mila euro. C'è anche l'aspetto estetico e quindi un luogo gradevole che ospiterà i ragazzi nei momenti del tempo libero e appunto in cui potrebbero anche confrontarsi, distendersi un po' dalla tensione della mattinata nell'aula. Quindi è una scuola che è molto attenta anche al benessere dei ragazzi e questo è molto importante e lo sappiamo benissimo dopo quella vicenda delicata del Covid che ci ha fatto capire com'è importante anche recuperare un po' di equilibrio di rapporti. E quindi dal punto di vista contenutistico è molto interessante ma anche appunto vediamo qui dal punto di vista estetico, esteriore è stato fatto un ottimo lavoro. Grazie mille! Grazie a tutti.